Tracce, registro i segni lasciati dal contatto fisico dell'uomo, impronte, sentieri, misuro lo spazio che ci contiene. Le tracce che provano l'esistenza dell'uomo mi conducono a verificare anche la mia presenza. Superfici consumate. Superfici consumate, contaminazioni che evidenziano la sua presenza. Registro i segni lasciati dal contatto fisico dell'uomo, la nostra presenza. La sua presenza Piccoli fenomeni riprodotti in studio con l'acqua e la luce sembrano restituire con vigore le origini catastrofiche che questi elementi primordiali conservano nella loro memoria sin dall'inizio del tutto. Piccoli fenomeni riprodotti in studio con l'uomo mi dettaglio trascernino Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.